Non si era arreso alla fine della relazione sentimentale con la ex, da mesi la tormentava e la perseguitava. Un'escalation che addirittura aveva portato ad un'aggressione verbale e fisica nella notte di Capodanno. È così finito in manette per stalking un 52enne arrestato questa notte in flagranza di reato dai carabinieri dichiusi della Verna. Nell'ultimo periodo la situazione tra i due ex compagni si era inasprita in modo preoccupante. Dopo un anno passato tra minacce, aggressioni verbali e denunce, i militari avevano notato una recente escalation delle intimidazioni da parte dell'uomo e avevano deciso così di tenere sott'occhio la situazione anche con servizi preventivi notturni. A Capodanno il 52enne si era presentato addirittura nei pressi dell'abitazione della donna e al culmine dell'ennesima lite l'aveva aggredita verbalmente e fisicamente percuotendola pur non provocando le lesioni. Questa notte attorno alle 4 del mattino i militari hanno notato di fronte all'abitazione della 45enne che nell'ultimo periodo aveva presentato alcune denunce per stalking nei confronti dell'ex compagno l'uomo che si aggirava con fare sospetto era arrivato sino al portone della donna probabilmente con l'intento di entrarvici per intimorirla ancora una volta. I militari hanno così sventato una possibile aggressione ai danni della donna arrestando l'uomo e così nelle primissime ore del mattino il 52enne è stato tratto in arresto e espletate le formalità di rito è stato portato in tribunale ad Arezzo dove sarà sottoposto a rito direttissimo.